ciao a tutti amici di esperienza bombare sempre allo stand di arce da barcellona in compagnia di arce liquidi jay z abbiamo già visto il jade e jade s qua il design è praticamente identico veramente molto sottile molto leggero cambia solo la core posteriore che riprende la texture dei fratelli diciamo minori quindi i z220 e i z520 quindi texture ruvida abbiamo fotocamera 13 megapixel più 2 megapixel anteriori quella avanti fotocamera molto molto grande anche esteticamente non è male posta qua al centro tasto accensione ecco in alto purtroppo quindi è un po è un po scomodo da raggiungere con la mano logo acer il display è un 5 pollici hd qua abbiamo un processore quadricolo a 64 bit che dovrebbe essere comunque superiore al vecchio octa core e 2 gb di rara fluidità è decisamente migliore rispetto ai modelli entry level e cosa dire sicuramente un terminale che da un'idea di solità e anche un po più premium ovviamente rispetto agli altri modelli che abbiamo visto oggi quindi per questo video è tutto noi ci vediamo nei prossimi video un saluto a tutti da lorenzo per esperienza mobile ciao